Uno stage di ginnastica ritmica al quale hanno preso parte 50 bambine tra i 6-16 anni. Organizzato dalla ritmica Dynamo di Darina Jalice con ospiti illustri della ginnastica, la settimana si è articolata in un lavoro tecnico molto approfondito con la presenza di allieve provenienti non solo dall'Italia ma anche dalla Russia. Sì, è un bel traguardo, la nostra scuola in funzione, questo è il secondo anno e finalmente ho potuto organizzare uno stage sia per le mie bambine per avere la possibilità di confrontarsi con le ginnaste di altre città e anche paesi. Sono molto contenta di essere riuscita a organizzare questo lavoro. Sì, le piace molto come organizzato, bene, piacciono tanto le ginnaste e fa molto piacere di lavorare con queste persone e con queste bambine. Veronica Bertolini, che ha lasciato il campo internazionale della ritmica molto presto, ha tenuto alcune lezioni. Stare qua ad Ostia è bellissimo perché appunto ci sono queste tante ragazze e bambine che si allenano sempre con tanto impegno e dedizione. Mi piace lavorare con loro perché si vede proprio che hanno voglia di imparare e migliorare. Quindi devo dire che è uno stage utile a loro ma anche tanto utile a me. Ci sono un sacco di margini di miglioramento perché ci sono tante bambine e ragazzine giovani con un grande potenziale e allenandosi comunque sempre bene come stanno facendo in questi giorni sicuramente miglioreranno e i risultati ci saranno perché il lavoro vaga sempre. La grande campionessa è arrivata ad Ostia, si tratta di Veronica Bertolini. Per te questo è un biglietto da visita direi molto interessante. Sì, devo ringraziare molto Veronica di aver partecipato qui con noi in questi allenamenti perché lei è un'atleta di spessore internazionale, ha partecipato all'Olimpiadi di Rio per l'Italia ed è stata cinque volte campionessa assoluta d'Italia. Marina a settembre si riparte, con quali obiettivi? Sì, dopo adesso che ci abbiamo lavorato con questa preparazione di stagione a settembre ricominceremo con tutti i corsi regolari e per i nostri bambini di preagonistica probabilmente cominceremo un po' prima per preparare la stagione e tutte le bambine nuove invece aspetteremo in palestra a partire da 15 settembre per cominciare il nostro bel sport. Grazie. 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 Grazie a tutti.